Scongiurato il pericolo di chiusura del Policlinico sassarese dopo l'incontro di ieri in prefettura, l'assessore alla sanità Luigi Arru garantisce la disponibilità della regione per la prosecuzione dell'operatività della struttura sanitaria privata. All'incontro erano presenti oltre al prefetto Giuseppe Marani, l'assessore Arru, il sindaco di Sassare, Nicola Sanne, i vertici aziendali, i responsabili di abilità, la società del gruppo Rusconi che vorrebbe rilevare l'ospedale di Viale Italia. Al Policlinico era stato revocato l'accreditamento da parte della regione a causa di un mancato adeguamento alle norme di sicurezza, per questo rischiava la chiusura, ma dopo il vertice in prefettura l'indirizzo ha invertito la rotta. C'è la volontà di risolvere il problema, la chiarezza è di garantire la sicurezza, può essere garantita la sicurezza con un percorso che la dita subentrante documenterà in tempi molto rapidi. Stiamo pensando a un accreditamento modulare, nel senso che l'ospedale continuerà a svolgere la sua attività e nel mentre verranno effettuati lavori più urgenti per cercare di tamponare le situazioni potenzialmente più a rischio e vengono garantiti 200 lavoratori, questa è la cosa fondamentale e importante, nessuno li mette. Quindi stiamo studiando proprio la tempistica per capire come far combinare gli aspetti di tutela della sicurezza con i passaggi amministrativi senza interrompere la relazione del Policlinico sassarese col sistema sanitario regionale. L'avvertenza del Policlinico si è avviata sul binario positivo, ha commentato il sindaco di Sassare Nicola Sanna abbiamo lavorato tutti per convergere sul risultato atteso. Tuttavia Arru ha sottolineato nell'incontro che la parte politica, a cominciare dal presidente della regione Francesco Pigliarue dal sottoscritto, si assume le sue responsabilità sia per salvaguardare il personale dipendente della clinica, sia perché, da parte degli imprenditori, vengono assicurate le condizioni di sicurezza dei pazienti e di quanti operano in quella struttura.